Ciao a tutti, popolo del tubo, guardate come saltello in mezzo a queste imballatrici Allora, un attimo signore del negozio, un attimo che adesso vengo da lei Allora ragazzi, eccoci qua, siamo sempre ad aprile, tempo di semina Ed io che cosa voglio fare? Voglio comprare un altro campo ed iniziare a seminare le patate Ragazzi, è che la patata tira, figuratevi se non tira su FarmExpert Allora noi subito andiamo a vedere, vediamo un po' seminatrici di potato Potato seminator, potato seminator Allora, patata, patata, 4 metri, questa è per la patata ragazzi, 4 metri 6 metri e 4, sempre patata, questa c'è anche in farming, la Grimm è sempre patata Finora la patata più grande di 6 metri, wow ragazzi, una patata di 6 metri, niente male Ok, ok, vado per la patata di 6 metri Allora, allora, prendo questa qua Sì, prendo la patata da 6 metri, grazie, grazie L'acquisto, l'acquisto e la ringrazio Andiamo a vedere la nostra seminatrice di patate da 6 metri Uh, che bella, T-Rex 814 Potato, che bestia ragazzi Allora adesso noi che cosa facciamo? Sbagliamo tasto, è stato semplice Allora, andiamo a vedere nel menu, eccola, la mandiamo a casa E noi ci, anche la risbagliamo tasto un'altra volta E noi andiamo a Landini Eh sì ragazzi, anche oggi, anche oggi lavoro con Landini Ma quanto è bello lavorare con Landini Allora, vediamo un po' dove ci ha messo sta Semina, seminatrice di patate Mamma mia, quanta roba ragazzi Poi dobbiamo vendere tutto Dobbiamo vendere tutto Devo avere la voglia di mettermi lì Perché qui non c'è lo spawn E devo vendere tutto e portare tutto al negozio Altrimenti gli FPS qua mi scendono a zero Allora, innanzitutto dobbiamo decidere un campo Decidiamo un campettino da acquistare, da fare a patata Allora, questo qua Questo qua tanto carino Ehm, se no ci tramutiamo questo Ci tramutiamo questo dove c'è l'uvetta E tutto, eh, che tanto non È roba che tanto non facciamo più Oppure questo campo qua No, questi sono i nostri Che cacchio dico Ehm, raga Il più vicino è questo Il più vicino è questo Quindi adesso io che cosa faccio? Ehm, ma questo è messo proprio male però raga Ehm, dobbiamo seminare la patata Però questo è messo proprio male Allora ragazzuoli Il campo è questo qua Come vedete siamo sopra l'indicatore Allora Ehm, innanzitutto lo compriamo Ehm, compra questo campo Ok, ok Abbiamo comprato il campo Scendiamo un attimino Ok Allora, il campo ragazzi è questo Questo lo faremo a patata Ma, eh, vediamo un po' come sta messo Perché non dovrebbe sta messo tanto bene Ehm, praticamente ci abbiamo La natura è già arato al 100% Ehm, coltivato 0 Fertilizzato 0 Erbi infestanti 100% Insetti 100% Funghi 100% E addirittura Ehm, ci abbiamo Ehm, l'acidificazione grande Quindi ragazzi dobbiamo Calciare Calciare Non calciare nel senso che diamo i calci Dobbiamo buttare la calce ragazzi Quindi Non faremo in tempo a buttare la patata In questa puntata A seminare la patata Lo faremo alla prossima Però ecco, intanto abbiamo già un obiettivo Un obiettivo prefissato Ragazzi Vado in farm Mi vado a prendere Anzi Vado in farm Eh, mi carico lo spandicoso lì Lo spandicalce Quello che ho adesso Che mi sembra che è da 2 o 3 metri Me lo carico Lo porto al negozio Così intanto inizio a vendermi qualcosina E ce ne compriamo uno più grande ragazzi Eh In tutto questo io faccio così E vi faccio un piccolo tagliettino Aspetta Eh E niente ragazzi Per colpa della mia memoria barbina Ho fatto un'altra figura da barbina ragazzi Che è successo? È successo che questo era già Cioè, quello da 3 metri Lo spandicalce È già quello più grande di tutti Quindi Quindi Ehm Niente ragazzi Dobbiamo Dobbiamo spandere un po' di calcettina Con questo qua E noi calcettina Spandiamo ragazzi Spandiamo Perché il calcio Eh Sì calcio Sì capivi Viva E viva il calcio Perché la calce ragazzi Aumenta il pH del terreno ragazzi Quindi il terreno C'ha bisogno Di un'acidificazione Lieve Quasi niente Quasi neutra Invece noi Eh Qui è grande È troppo acido Quindi gli buttiamo giù questa calce Io spero che sto dicendo cose azzeccate Perché se sto dicendo una marea di cazzate Fate finta che non vi sto dicendo niente Comunque dovrebbe essere così ragazzi Eh Dovrebbe essere così Calce 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 Che fa tanto bene al pH Del terreno ragazzi Perché è troppo acido E quando è troppo acido Non va bene Allora Perfetto Andiamo con Con la seconda velocità La seconda velocità va benissimo Va benissimo Dai per far sti lavori ragazzi La seconda velocità Va più che bene Penso No Dai 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 Va più che bene Va più che bene Poi ragazzi Off camera Devo iniziare a vendere Vendere tanti mezzi Perché in farm In farm Il lag Aumenta da morire Con troppi mezzi Ma questo ragazzi È un problema Un po' di tutti i giochi Farming Con tante mod Lagga Questo con tanti mezzi Lagga Purtroppo Quando i giochi Sono ottimizzati Un po' così Succede anche questo Allora Facciamo così Ragazzuoli Perfetto Siamo arrivati Stops Stops Facciamo una bella Retromarcia Ragazzi Poi Mentre che io Finisco qua Di Di buttare la calce Dovremo Penso anche Far coltivare Sto campo Perché diciamo Non è che Qui dice Che è arato Però A vedere dalle texture Non pare tanto arato Pare più Diciamo Come si può dire Ripuntato Ecco Non mi sembrano Solchi tanto profondi Comunque noi Per togliere tutte Le erbe infestanti E cose varie Adesso ci diamo Un bel Una bella coltivata Una bella erpicata Però non la diamo Noi la facciamo dare Dal Dall'operaio Ecco ho buttato La calce tutta Per storto Bravo Robby Complimenti Continua così Continua così Che vai bene Che la calce Ragazzi Per storto Si sa No la calce Per storto La raccomandano Proprio i migliori Contadini Ok Fatemi Ecco Fatemi sistemare Quel pezzettino Perché non lo potevo Vedere così Ok Diamo un'altra Botta qua Intanto ragazzi Io vado a salutare Quelli che hanno commentato Come sempre Ragazzuoli L'ultimo video Di FarmExpert Fatemi mettere qua In carreggiata Se no non si sa Quello che faccio Innanzitutto Grazie a tutte Le 150 visual E i 30 like Del video Ragazzi Grazie mille Siete sempre Siete sempre ottimi E poi andiamo Oh mio dio Andiamo con i Con i commenti Allora Ringraziamo Massimo De Fazio Lui dice Che ci sono tante cose Da rivedere Da migliorare Ma io dubito Che Non lo so Se FarmExpert Uscirà ancora Chi lo sa Perché con tutta Sta concorrenza Per farming Cutter and crops Chi lo sa Chi lo sa Cioè Devono veramente Migliorare il gioco Tantissimo Cioè Tantissimissimissimo Allora se lo miglioreranno Tantissimissimissimo Allora Allora Sì Però Se no Io dico Ma che uscite a fare Non ci spendete i soldi Per niente Poi Francesco Bertamino Un saluto anche a Francesco Che mi dice Che non può seguire La prima settimana Perché è montagna Chissà Se quando sarà uscito Questo video Sarai tornato Francesco Comunque un saluto Poi Tiger 4316 Ormai ragazzi Siete sempre gli stessi Che vi saluto Gli altri cosa fanno Non commentano Commentate ragazzi Che cosa mi dice Il buon Tiger Che Eh sì Sì Dice che Praticamente Dovrei togliere Il DLC Questo qui The Hard Terrain Però sinceramente Non ci ho ancora provato Non so nemmeno Se si possa fare Penso di sì Penso di sì Non lo so Devo vedere Poi finita questa rec Casomai ci do Ci do uno sguardo Mamma mia Guardate ragazzi Come 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 butto calce Così Storta Butto calce storta Allora Poi 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 Ciao 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 Mi piace sempre dire Ciao 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 Poi Vediamo un po' Ci abbiamo Abbiamo Taliesin Taliesin Discutibile a livello ambientale Lui dice Il fatto di Fertilizzare con gli aerei Ma guarda che Da qualche parte Funziona così Funziona così Anche qua Dalle mie zone Spesso i noccioli Adesso usano i troni Che Non so Cioè Per lo meno ho sentito Dirlo Ho sentito dirlo Non so se Una leggenda Se è vero Ma pare proprio Che ci siano Questi droni Fatti per Per innaffiare i campi Che hanno certo Una portata limitata Non è che ci puoi mettere 800 milioni di litri Però Esistono Esistono Poi Samuele Vaschetto Mi saluti nel prossimo episodio Certo Samuele che ti saluto E quindi ragazzi Abbiamo finito I commenti Per il momento Io Avendo finiti i commenti Ragazzi Off camera Vado avanti a Come si può dire A spandere un po' Di questa bella calcetta E Vabbè Faccio un taglietto E ci vediamo a campo finito E Poi Metteremo l'operaio Ad erpicare E noi Lo seguiremo A ruota Con la seminatrice Mi pare Mi pare una buona Mi pare una buona Un buon compromesso Una buona accoppiata Per portare avanti Questo bel video Quindi Andremo Lui andrà Ad interrare Tutta questa calce E noi andremo a seminare A Fraporco Allora ragazzi Rieccoci Allora Ho praticamente Incalciato Tutto il campo Si dice incalciato Non lo so Comunque ragazzi Ho fatto tutto il campo E Che cosa faccio adesso Vado a fertilizzarlo Ho messo un operaio A coltivarlo Perché giustamente La calcetta È da interrere E vado subito A fertilizzarlo Voi direte Robby Perché lo fertilizzi subito Perché l'esperienza insegna Visto che poi dopo Tutte le colture Mi vengono Calpestate Acciaccate Vedetela un po' Come volete Invece io Facendo così Non faccio altro Che Fettilizzarlo prima In modo che poi Vado a seminarlo E Ma dove Ma come sta Scusate Ma come sta coltivando Per storto questo Coltiva per lungo No Che fai prima Pirla Pirla Vabbè Dicevo ragazzi In modo che Se io lo fertilizzo Adesso Lo fertilizzo subito Poi quando vado A seminare Non ci ripasso Sopra E Cioè Do subito Tutti i trattamenti Subito In modo che Poi non vado A calpestare Nulla Capito Perché se no Pure le patatine Qua Ce le giochiamo Tutte Allora quindi Io ragazzi Mentre il ragazzo Lì coltiva Mamma mia Se è preso Il coltivatore Piccolo Ma che cazzo Ve l'hai commesso Il coltivatore Piccolo Si è portato E quando finisci Con quello Mamma mia Ragazzi Vabbè Io e Io e l'amico Qua Andiamo a dare Il primo trattamento Al campo Quindi il concime La concimazione E E niente E niente Ragazzi Ci vediamo dopo C'è un piccolo taglio Perché tanto qua Andremo avanti Tutto il giorno E tutta la notte Quindi noi probabilmente Ci rivedremo Ci rivedremo domani E nel giorno di gioco Di domani Quindi io vi auguro Una buona notte Anzi per voi Passerà Sarà una notte Super veloce E per me Sarà una notte di lavoro Quindi ragazzi Faccio un taglietto Faccio così Ad domen E allora ragazzuoli Ho fertilizzato Tutto il campo Ed eccomi qua Pieno di patata Ragazzi Sono andato in farm A fare A fare il pieno Di patata E ho messo anche Un collega Ragazzi Ho messo anche Un collega Sul campo In modo che mi va A seminare Tutta la patatozza Come vedete Seminiamo insieme La patatozza Se come il collega Prende il campo Per storto Mi sa che mi tocca Prendere il campo Per storto Pure a me E si Perché se no Sicuramente Impazzisce Quindi ragazzi Seminiamo per storto Pure noi Ok Andiamo indietro così Questa ragazzi A differenza Della seminatrice Da mais Se è un pochetto Più intelligente Ovvero C'ha le ruote Davanti Alla seminatrice Invece con la per mais Se gliel'hanno messa dietro E quindi Davanti metter mais E dietro la toglie Con le ruote Invece questa Non dovrebbe avere Quel tipo di problema Allora ragazzi Dovremmo Dovremmo Esserci Proviamo Proviamo un po' Dovrebbe già Essere attiva La seminatrice Vediamo un po' E si E si che attiva E si che attiva Eccola qua Fa anche i sorghettini Guardate che spettacolo Fa anche i sorghettini Ecco questo mi piace Questo mi piace I sorghettini Sapete che il terreno dinamico È una cosa che io adoro E speriamo di vedere In Sia in Pur Farming Sia su Farming 19 Su Cut and Crops Sono sicuro che ci sarà Quindi è inutile nominarlo Posso solo dire Che non vado l'ora Che non vado l'ora Allora Tiriamo su Questa Ah no Non si può Tirare sulla seminatrice Puoi solo piegarla E ripiegarla E ripiegarla Quindi Faccio prima a far così Perché se no Ci mette mezz'ora A ripiegarsi Quindi mi tocca Girare con tutta La seminatrice Accesa Intanto Piantatore Che è diversa Dall'abilità Seminatore Quindi ragazzi Stiamo iniziando Ad avere anche L'abilità Piantatore Ottimo Ottimo Intanto io Qua Spingo di brutto Ragazzi Guardate come Spinge il McCormick Sul terreno Sull'hard terrain Ragazzi L'hard terrain Ramma mia Mamma mia Insomma Io ho sempre detto Che non è che mi piace molto Sta mod Ar terrain Perché non fa altro Che incollare il mezzo Al terreno Cioè io mi sento proprio Il trattore Per chi non lo gioca Ragazzi Che non lo sta giocando Che non può capire Sentite proprio Il trattore Incollato È incollato Cioè io Io capisco la realtà Ma è peggio di Spin Tires Cioè è veramente Incollato ragazzi Mamma mia Intanto lassù Il collega Chissà quello che sta Combinando Grazie collega Che ha iniziato il campo storto E mi tocca fare il campo storto Pure a me Grazie collega Grazie Grazie collega Grazie Grazie collega Grazie E vabbè Comunque Stasemina patata Valla grande Poi ragazzi Così ci possiamo Ci possiamo Piano 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 Dedicare ai nostri campetti Per tutta l'estate Aspettare che cresca E poi penso ad agosto Ad agosto Qui funziona così Su FarmExpert Aprile E' il tempo di semina Maggio Giugno Luglio Si Si fanno le lavorazioni Le Si Si va a dare il diserbo L'antiparassitario Il concime Tutto il resto E poi quando è Agosto E' tempo di Di raccolta Più o meno Più o meno è quello L'itinerario Ecco Del Del gioco E questa volta ragazzi Ci siamo concentrati Su mais E patata La prossima puntata Ragazzi Visto che intanto Il nostro mais Crescerà rigoglioso E rigoglione E abbiamo seminato erba Sull'altro campetto E quindi aspettiamo Che cresca l'erba Sperando che cresca Un po' più velocemente Poi dopo andremo a vedere Sul menu Quanto ci metterà l'erba A crescere E Perché ogni cultura Qui ha i suoi giorni Di maturazione E Andremo a fare un po' Di pienagione Perché le nostre bestiole Hanno bisogno di Fienagione E prima della fine Di questa puntata Voglio aumentare Un po' le bestiole Eh Vogliamo più bestiole Eh Voglio dire Almeno Almeno Qualcosina Ci abbiamo da fare Perché mettere I campi crescono Abbiamo le bestiole Da 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 Allevare Allora Mamma mia ragazzi Stiamo diventando Dei piantatori esperti Il campo è grande Ragazzi Quindi È normale che ho messo L'operaio Ma vedo che andiamo meglio Noi che l'operaio Anche perché lui Ha portato la seminatrice Quella più piccolina E qui Qui ragazzi Gli operai Sono furbi Perché siccome Sono pagati a ore Qua mi sa Loro prendono I mezzi più piccolini In modo In modo Che uno In modo che uno Li paga di più Loro ci mettono di più Siete furboni Eh ma io Dalla prossima volta Vi pago Guardate i sorghi Guardate Che spettacolo Dicevo Io dalla prossima volta Vi pago Diversamente Vi pago Eh Al lavoro Quindi ragazzi Vedete un po' voi Quello che dovete fare Eh Ma Secondo voi ragazzi Ma questa qui È una combinata Ma non credo Perché Boh Vabbè Comunque Non credo Cioè esistono le combinate Per patate Non lo so Su queste cose Sono ignorante Ragazzi Ci siete sempre voi Che tanto Pum Siete pronti Con i vostri commentozzi A Ad illuminarmi E io Mi illumino volentieri Perché ragazzi Imparare È sempre una cosa importante Mamma mia ragazzi È lunga sta semina È lunga sta semina Eh Lì ho sbagliato Ho saltato un pezzo Ho girato male Vabbè Vabbè Chi se ne frega Rimane così Tanto se ci vado sopra Poi calpesto tutto Ed è peggio E intanto ragazzi Patata Siamo arrivati al 44% Come vedete La classe del terreno È D Quindi Il terreno fa un po' schifo Però Più lo Più lo Fertilizziamo Più lo concimiamo Più lo trattiamo Più lo ariamo Più lo coltiviamo Più lo seminiamo Più la classe del terreno Aumenta ragazzi E quindi piano piano Anche questo terreno Frutterà di più Più aumenta la classe del terreno E poi sarà a posto E poi sarà a posto Aspettando che cresca di classe Come avete fatto caso Ogni terreno Diciamo Diciamo È diverso a sé Qui mi tocca ripiega un attimo Ragazzi Mi tocca ripiega un attimo Perché sto andando troppo storto Dicevo Ogni terreno Come potete vedere Ha un colore diverso Più è un terreno di cacca E più è chiaro Più è un terreno di classe alta Invece meglio E più il terreno Diventa scuro Io Questa è una cosa che ho visto io Che ho notato io Non so se sto dicendo una minchiata Però Io ho notato questo Ho notato così Vabbè Vabbè Comunque diceva Robby Ma che ce ne frega Vabbè Così era per di Per di una statistica E Che faccio ragazzi Io ragazzi Continuo a seminare Il mio bel campettino Di patatozze E Adesso tra poco Torno in farm Vado a rifornire Questa Semina Semina Trisotta Che Che ci serve Ci serve un altro po' di seme Altro po' di patatozze Da interrare Perché tecnicamente Non c'è il seme No ragazzi Si interrano le patatozze Cioè a me Me le dovete di Ste cose Perché mi interessano Mi interessano E E niente Detto questo Ragazzi Io vi ricordo sempre Di spolliciare Perché è molto importante Mi aiuta a capire Se un video vi piace o meno Se una serie vi piace o meno Quindi spolliciate Ragazzi Lasciate un bel commento Così poi vi saluto Nel prossimo video Se non commentate Non vi posso salutare Non so chi siete Quindi commentate E E niente Noi ci vediamo In descrizione Ci sono tutti i miei social Ragazzi Mi raccomando Mi raccomando E ho fatto anche Un nuovo TS Quindi ragazzi E ho risolto anche Il problema del TS E quindi Niente Noi ci vediamo Al prossimo video The Farm Expert Ciao 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 Grazie per la visione!